è la prima volta che parliamo di vaccinazioni di vaccini in nel contesto di delle giornate di nadir e quindi ho pensato di invitare il professor cosarizza detto anche andrea per gli amici il quale è un immunologo quindi andrea quando parliamo di vaccini di che cosa stiamo parlando un po lo sappiamo ma cercherò di farvi vedere che parlare di vaccini è completamente sbagliato e poi capirete perché tenete a mente questa mia frase iniziale allora quello che vorrei fare è una che mi hai chiesto di fare finito è una panoramica su quelli che sono i vaccini come sono nati di cosa parliamo e da dove vengono fuori e i vaccini in realtà nascono con l'esperienza medica quando sono cominciate le epidemie nel corso della storia dell'uomo chiariamo i termini epidemia vuol dire indiffondersi di una malattia che colpisce quasi simultaneamente una collettività di individui con una ben delimitata diffusione nel tempo nello spazio ben delimitata vuol dire ben delimitata oggi non abbiamo un'epidemia di covi abbiamo una pandemia la pandemia c'è ancora in tutto il pianeta ci sono persone che s'ammavano se il felipe ne muoce e muoiono voglio dire e quindi non possiamo dire è finita la pandemia non è finita nulla è finita la fase di emergenza quello che io dico sempre in questo periodo qua è che dobbiamo distinguere emergenza da pandemia l'emergenza ovvero una situazione che porta un sistema al collasso è abbastanza finita perché il sistema non è collassato sta recuperando tutto il sistema sanitario economico ed altro con enormi difficoltà sia ben chiaro però non è collassato e questa è la fase di emergenza l'esempio che facciamo è hai un tubo dell'acqua che si rompe dentro al muro qual è l'emergenza metti un tappo e impedire che ti allarghi la casa che allarghi piano di sotto tu ne metti un tappo ma non è finita lì perché devi ripararlo devi trovare un idraulico in questo momento 810 mi pare un po difficile trovare un idraulico però di fatto la cosa finisce quando hai riparato tutto noi siamo ancora non siamo nella fase in cui dobbiamo stiamo cercando l'idraulico che forse viene ci ho detto le epidemie sono questa cosa qui nel passato abbiamo visto epidemie importanti come la pesta di giustiniano che fu un batterio forse nella sd a pesca con un numero di morti che si aggira come 50 100 milioni secondo i calcoli e questa epidemia è rimasta in piedi per 200 anni o giù di lì e poi c'è la peste nera la peste nera famosa perché a quel modo tutta l'europa è vero subito è quella che ha fatto emergere la variante le varianti dei cgh 5 la delta le varianti diciamo che sappiamo bene come funzionino e abbiamo visto poi la peste un'altra un'altra pandemia che l'influenza spagnola questo ha colpito il mondo 100 milioni di anni fa con un virus che ha effettato oltre 500 milioni di persone però ci ha messo molto tempo a farlo molto tempo a farlo sicuramente più di quello che ha impiegato il povide o meno SARS-CoV-2 ad arrivare dalla Cina a noi diciamo intorno al 2020 forse e a infettare poi tutto il mondo con una velocità veramente impressionante queste sono le peggiore pandemia le altre erano state definite tutte epidemie in quanto localizzate ma avevano insegnato già qualcosa all'uomo ci avevano insegnato per esempio nella peste di atene che le persone malate e guarite erano quelle che dovevano prendersi cura delle persone malate quindi diciamo erano infermieri becchini quelli che sapevano i morti e l'altro perché tutti sapevano che se avevi avuto quella malattia lì non ti saresti più infettato questo è un primo esempio di risposta immunitaria mi voglio dire risposta secondaria a un patogeno che protegge l'ospite dalla malattia i greci nel 500 avanti Cristo avevano capito perfettamente che se tutti ammalabili qualcosa di questo genere qua non ti saresti più ammalato la cosa poi è andata avanti molto tempo per molti secoli ma è arrivata fino quasi ai giorni nostri cioè fino a quando non si è capito facciamo conto 200 anni fa per stare larghi che in realtà le malattie infettive non si ripetevano per motivi diversi da quelli pensati allora cioè il sistema immunitario è stata fuori con gender se vogliamo nella sua logica però non è che gener sapesse bene quello che faceva e poi vedrete cosa vi racconto qui il problema era che si pensava che la malattia o un germe o un qualcosa utilizzasse tutte quante le sostanze nutritizie presenti nell'organismo quindi se io mi prendo il vaiolo il la malattia il vaiolo qualunque cosa sia e stiamo parlando di centinaia di anni fa in cui non c'era la minima idea di cosa fosse un virus se io mi ammalo di quella cosa lì quella cosa lì mangia tutte le sostanze nutritizie che io ho nel mio corpo per cui la che che servono alla malattia per continuare per cui la volta dopo quando io mi riammalo non ci sono più queste sostanze e la malattia non può funzionare era un po' una specie di come dire mettiamo la malattia la affamiamo non trova più le sue sostanze quindi non ritorna questo era una delle vecchie come dire ipotesi sul motivo per cui le persone che si ammalavano in una patologia effettiva non si sarebbero più ammalate la seconda volta siamo però naturalmente in questi tempi qua in questi tempi qui quando le malattie effettive e i patogeni hanno cominciato a viaggiare e i patogeni ora abbiamo visto nel caso del SARS-CoV-2 ci ha messo qualche mese ad arrivare dalla Cina qua e in tutto il resto del mondo una volta ci mettevano molto di più se voi guardate un pochino questa tabella in cui eh ho riportato questa figura cosa è accaduto per tre malattie effettive di grande importanza per l'uomo cioè il vaiolo la lebra e la malaria il vaiolo pare essere originato oltre diecimila anni fa ed è stato visto nei eh primi settlement nei primi diciamo conglomerati e agglomerati di uomo e animale nel nel momento in cui siamo passati in una fase da da raccoglitore cacciatore a all'agricoltore quindi diecimila anni fa a diecimila anni prima di Cristo cioè dodicimila anni fa o anche più qui il vaiolo è comparso e poi si è sparso in tutto il mondo con una cera a lentezza vuol dire perché per arrivare negli Stati Uniti ci sono venuti quei simpatici conquistadores spagnoli che hanno portato il vaiolo in Messico e hanno fatto secca tutta la popolazione messicana e ai fini di conquistare da una nazione. Lo stesso vale per quello che hanno fatto gli inglesi intorno al 1700 con il diamo in America per cui il vaiolo è stato usato come arma biologica fin da centinaia di anni fa e sta cosa qui a me piace pochissimo calcolando che ci sono ancora dei eh delle fiali di vaiolo del virus originale sia nei sedice di Atlanta che in un eh istituto a Mosca e questa cosa mi non è bellissima. Comunque ci ho detto il vaiolo ha fatto questa strada la la lembra è partita dall'Africa centrale e grosso modo anche questa in un periodo di diverse migliaia di anni fa e si è sparsa anch'essa prima nell'India poi è arrivata al eh in Medio Oriente in Italia e quant'altro aveva stata portata anch'essa con le conquiste dell'America eh nel nord centrale del sud. Poi abbiamo la malaria che pare eh essere eh stata presente fin a milioni di anni fa ho trovato un eh un moscerino in un pezzo di amber che con qualche sequenza di ehm plasmorio della malaria per cui come dire eh infettive hanno sempre viaggiato. I tempi sono naturalmente diversi. Una volta ci mettevi dieci mila anni per andare da una parte all'altra del mondo adesso la faccenda è totalmente diversa. Ma chi ha sempre cercato di controllare tutte queste infezioni è naturalmente il sistema immunitario che è l'insieme di molecole, cellule, meccanismi e quant'altro che deve tenere sotto controllo microorganismi che noi ospitiamo normalmente o che cercano di attaccarci. E' presente che il microbiota cioè la quantità di microbi che noi abbiamo che noi alberghiamo supera ampiamente il numero di cellule nostre. Stiamo parlando di numeri intorno a dieci alla quattordici batteri per individuo. Eh sui virus c'è un ampio dibattito su quanti ne abbiamo addosso ovvero quant'è il viroma la quantità di materiale virale che ci portiamo eh dietro e anche questo è molto alta. L'otto per cento del DNA di una persona è derivata dalla integrazione di retrovirus eh che è avvenuta nel corso di cento o duecento o cinquecento milioni di anni nella nostra storia evolutiva per cui le interazioni tra organismo nostro e organismi di altro genere sono come dire si perdono nella notte dei tempi. Il sistema immunitario come ben sappiamo deve tenere sotto controllo tutta la serie di patogeni e eh lo fa benissimo lo fa ancora meglio quando i patogeni vengono fatti riconoscere tramite un trucco e il trucco è la vaccinazione. La vaccinazione sapete tutti che serve a far vedere al sistema immunitario un certo tipo di patogeni in modo tale che la volta dopo che tu vedi lo stesso agente hai già una risposta pronta o ci metti un attimo a farla. E qua vedete quello che è successo storicamente quando è entrato in vigore il vaccino per la ehm come dire la difterite il numero dei casi è naturalmente è crollato in pochissimo tempo lo stesso ragionamento per la polio sia il vaccino inattivato che l'orale attivo e questo ha dato una un'altra botta alla la poliomielite come dire il morbillo anche questo è crollato sia come malattia sia come eh effetti a lungo termine ovvero eh la panencefalite subaccunta sclerosante che colpisce più o meno una persona su mille o duemila che ha contratto in morbillo in età in età nell'infanzia voglio dire e questo è un un altro eh aspetto piuttosto importante. Quindi il trucco è di far vedere un pezzettino del eh patogeno o un pezzettino o un del del DNA o un pezzo di RNA oggi abbiamo tutte queste tecniche in modo tale da indurre una risposta immunitaria e questo lo sappiamo fin ora piuttosto bene è una cosa che credo tutti i sessanta milioni di immunologi che abbiamo in Italia oggi hanno capito perfettamente o quasi. Da un punto di vista molecolare però cosa accade? Accade che c'è la risposta primaria cioè io inietto un cello antigene o vedo un cello patogeno e faccio la prima risposta che è rapida cioè è rapida come dire dura poco più che rapida dura poco e ha una certa ampiezza. Quando torno a vedere lo stesso tipo di patogeno o lo stesso tipo di vaccino la risposta è più veloce cioè avviene prima vedete il tempo qui è diamo una settimana di tempo tra il l'antigene il vaccino quello che volete è la prima risposta nel caso della risposta secondaria in tempo è molto minore parliamo di pochi giorni la risposta è molto più ampia molto più alta dura molto di più ed è qualitativamente molto migliore perché associamo a un processo di rimodellamento di quello che è il dna delle cellule che producono anticorpi le cellule che producono anticorpi vanno incontro a un processo che è chiamato ipermutazione somatica il che vuol dire che il dna che codifica per gli anticorpi viene riagangiato gli vengono inseriti dei pezzi tolti dei pezzi c'è una specie di tagliacucci per cui nascono dei cloni un pochino diversi da quello di origine che hanno una affinità maggiore per l'antigene quindi funzionano meglio c'è una specie di lotta darwiniana tra le varianti diciamo degli anticorpi che riconoscono la stessa molecola lo stesso antigene e vince quello che funziona meglio quindi praticamente da una cellula che produce anticorpi derivano facciamo con dieci cloni di questi dieci cloni uno è il migliore e quello viene selezionato e diventa il clone che è l'origine poi dalla risposta secondaria che è più ampia più lunga e qualitativamente è molto migliore la risposta secondaria coinvolge gli infociti di memoria certamente prima avevamo le cellule naive vergini che non avevano mai visto questo antigene la seconda volta abbiamo le cellule in memoria funzionano più velocemente hanno danno una risposta molto più forte e si basa sulle immunoglobuline di tipo G e immagino che tutti tutti noi abbiamo fatto o sentito dire del test per vedere quanti anticorpi hai se sei preso il covido sei vaccinato misurimi anticorpi i gm per vedere che hai fatto una risposta nei primi giorni casomai se non ci sono vai a vedere le gg ma dopo diverso tempo dopo diverso tempo non hai gm hai solamente i gg perché sono quelle che dominano la risposta immunitaria secondaria cioè in altre parole ti fai il vaccino in un primo momento produci gm ti fai la dose richiamo comincia a fare i gg questo è quanto accade detto in maniera molto semplice ma da dove nasce da dove nasciamo chi è il mio antenato ovviamente questo signore per esempio ebbe quella che chiamiamo proto vaccinologia o proto immunologia cioè non so quello che faccio però funziona bene e questo è un pochino il l'inizio della storia dei vaccini cosa accadeva prima citavo tucidine la piacca di atene non sappiamo bene se era il bagliolo tifo che altro ma tucidine scrisse che lo stesso uomo non è mai colpito due volte e quindi chiaramente c'è stata un'applicazione immediata i greci cosa hanno fatto senza avere i laboratori di immunologia e senza cercare anticorpi hanno preso sopravvissuti e li hanno messi ad accudere i malati rimuovere il cadavere e quant'altro quindi come diciamo applicazione immediata di quella che era risposta immunitaria il bagliolo è stato poi un qualcosa di molto importante nella nostra storia pare che la mummia pare che il faraone rams e quinto abbia avuto il bagliolo e sia morto di bagliolo qui c'è una discussione in corso che dura un po di tempo con il mio caro amico francesco galassi e lui dice che non è bagliolo è un'altra cosa comunque qualunque cosa sia nelle mummie ci sono moltissime moltissimi casi di eruzioni papulomatose di questo genere poi se ci spostiamo un attimo dall'antico egitto quindi parliamo di 3 4 mila anni fa e andiamo in oriente in oriente anche qua ci sono descrizioni del bagliolo e qua vedete una rappresentazione di un qualche divinità giapponese cinese voglio dire che doveva combattere il bagliolo in giappone si pensava che il vestito rosso tenesse lontano il bagliolo quindi le signore del geish venivano di rosso in india c'era una divinità tra le 800 mila indiane che doveva combattere il bagliolo e qua sotto vedete cosa è accaduto in europa quando il bagliolo è stato portato indietro dai crociati che hanno avuto la bella idea di andare a conquistare la terra santa e di tornare con il bagliolo e rispargerlo in tutta europa ma in cina cosa stava succedendo allora qui vedete la parola cinese per bagliolo e per variolazione variolazione perché il bagliolo era chiamato variola major per distinguere la variola minor che era un'altra cosa la varicella ovviamente la variolazione era una pratica che veniva fatta in cina in che modo allora anche qua in cina cinesi sapevano che chi si ammalava non moriva di vaiolo ma avevano anche capito che se ti ammalavi poco era meglio che ammalarsi seriamente per cui cosa facevano una pratica che era l'insufflazione delle pustole di vaiolo diciamo nella narice dei vaccinati cioè come funzionava quando il vaiolo era in fase florida ma in una persona che sarebbe guarita perché stava già bene venivano prese le troste e le pustole e il liquido contenuto in queste in questa vescicole fatto seccare al sole per un po' di tempo dopodiché insufflato con questa cannula alle donne nella narice destra e agli uomini nella sinistra questa era la pratica di utilizzata in cina che faceva sì che le persone che di fatto venivano infettate volutamente si ammalassero ma in maniera più lieve oggi possiamo pensare al motivo di questo fenomeno e il motivo probabilmente era il fatto che seccando le troste ed esponendo il virus agli raggi ultravioletti e al sole perdesse molta virulenza cioè funzionasse ma molto meno e quindi questo era il motivo per cui la pratica funzionava piuttosto bene in cina ma in cina non è finita lì perché poi dalla cina la pratica era venne spostata verso occidente e in india abbiamo visto che veniva utilizzata invece della insultazione nel naso una specie di ago a mille punte che bucava la pelle e sopra la pelle bucata si applicava una pomata contenente polvere di cross per i variolo e questo è una diciamo una fia una fiala contenente queste cose presenti in un museo per l'india ovviamente c'era anche una dea in duca proteggeva dal baiolo per cui di fatto siamo passati dal metodo cinese insuffazione nel naso al metodo indiano scarificazione con un mago un oggetto molto appuntito diciamo e da qui in poi però cambia un po la storia per quale motivo perché la pratica arriva dalla come dire dall'india alla turchia e in turchia che succede in turchia la pratica era stata sostituita con la scarificazione cioè invece che adottare un oggetto con tante punte veniva fatto un taglio una ferita nel braccio e applicata sopra una polvere diciamo una una pomata quello che è contenente croste e polvere di vaiolo e questo con lo stesso metodo il paziente il vaccinato in vari faceva una piccola malattia poi guariva e non succedeva più niente e questa pratica era utilizzata in turchia nel 1600 1700 quegli anni lì anno in cui 1700 e qualcosa la signora neri work di montagu andò in turchia allora questa bella ragazza che aveva un caratterino piuttosto interessante cioè lei una volta disse che sono felice di essere una donna perché così non devo mai sposarne una è ovviamente questo non vale più però allora era una frase divertente e era la più bella donna mi intera cantata da poeti scrittori ed altro ancora amica di personaggi come voltare insomma un bell'individuo la quale sposò a suo tempo il lord montagu lord montagu per chi di voi conosce il british museum tra tutti immagino lord montagu era il proprietario di quella catapecchia in periferia tanto è vero che la via parallela al museo si chiama montagu street per capirci quella era la sua residenza di campagna questo era un lord pieno di soldi che il re nominò ambasciatore a cross antinopoli quindi lord montagu va a cross antinopoli si porta dietro la bellissima moglie che prende il vaiolo e si incazza moltissimo non va bene quindi decide di dedicare la sua vita a combattere il vaiolo e cosa fa comincia a ragionare ea sponsorizzare le persone che cercano di combattere il vaiolo tra cui due italiani timoni e filarini che stavano a smirne in turchia sempre e lei montagu riesce a convincere la royal society ad accettare un loro lavoro una loro pubblicazione quindi questi scrivono una lettera al al ai proceedings alla royal society spiegando un po quello che succedeva in turchia nota bene in realtà questi signori qui erano già andati in inghilterra la notte di natale nel 1700 fece una conferenza alla royal society of london spiegando cosa facevano in turchia per combattere il vaiolo naturalmente in inglese non gli crede cioè non gli ha creduto pensavano fossero i soliti due spiritosi e quindi non è successo nulla fino a quando presentati dalla lo dalla lady montagu sono riusciti a pubblicare queste lettere alla royal society ma non è successo una che neanche lì c'è voluto un altro intervento c'è voluto la lady montagu che ha convinto giorgio primo il re a studiare il problema allora giorgio primo era molto preoccupato del vaiolo in quanto lui in realtà non sarebbe dovuto diventare re non avrebbe dovuto essere lui dire voglio dire il re era suo cugino che però è morto di vaiolo così come i figli per cui il ramo cadetto il ramo parallelo della famiglia diventò quello reale vero ed in conseguenza giorgio primo era molto entusiasta visto fatto qui perché diventato re però era anche preoccupato del vaiolo per cui cosa ha fatto convinto da lady montagu ha permesso il primo esperimento clinico forza della storia ovvero quello che chiamato il royal experiment ha preso ha fatto prendere ai suoi medici dei prigionieri in un carcere li ha fatti variolare cioè ha fatto fare questa pratica e poi è andato vedere che succede e chiaramente tutti quelli che avevano ricevuto la vario azione hanno fatto una malattia lieve dopodiché sono stati portati da qualche parte sono stati inoculati con il vaiolo fresco per capirci e non è successo niente neanche lì per cui la pratica è stata eh in qualche modo consolidata perché le persone che ricevevano questo trattamento non si ammalavano di vaiolo neanche se messi dentro un villaggio dove la gente moriva in grandi quantità per cui come dire la pratica della variolazione è passata in uso è diventa uno sport uno sport per cui nel 1700 e passa i reali europei tutti quelli che potrebbero permetterselo variolavano la propria famiglia e chiamiamo variolazione perché ti usciva una malattia lieve passata attraverso l'utilizzo del materiale umano quindi questo era il il metodo chiaramente con qualche problema di tipo tecnico ma alla fine funzionava bene e funzionava talmente bene che il vaiolo venne usato come arma biologica arma biologica prima citavo in maniera del tutto ehm mirata al fatto di portare un'epidemia e ammazzare una popolazione di eh persone indiani o messicani che fossero da parte dei degli spagnoli ok sì vedono il fatto giù in America del Sud ma eh di fatto il colonnello Bocchè venne incaricato da un lord Jeffrey Anders di portare le coperte infette nei villaggi degli indiani al fine di far morire tutti gli indiani di farli morire male male di appunto vaiolo e questo lavoro veniva fatto dalle persone che erano state variolate e quindi erano protette dal vaiolo la cosa è poi stata mostrata e riportata da tutti i libri questa è una delle immagini di un bambino di una tribù indiana appunto con il con il vaiolo arriviamo al genere in realtà ci sarebbe molto altro da dire perché per esempio la pratica della variolazione venne portata a Boston intorno al 1720 e veniva usata anche per gli schiavi uno schiavo di colore variolato costava molto di più perché non si sarebbe ammalato di vaiolo quindi c'era questa questa cosa piuttosto agghiacciante dell'uso di una vaccinazione per aumentare il prezzo del mercato arriviamo a Jenner Jenner cosa ha fatto sappiamo tutti che Jenner considera il padre della vaccinazione il padre della vaccinazione perché perché ha utilizzato una strategia che doveva in qualche modo risolvere un problema qual era il problema se io devo variolare centinaia di persone mi serve un'epidemia perché mi serve avere delle persone con il vaiolo a cui prendere le pustole farle seccare al sole e poi usarle per variolare o vaccinare le altre persone se non ho i malati di vaiolo non posso fare nulla allora Jenner cosa ha fatto ha fatto questa cosa qui ha messo insieme questo problema come il secondo problema il secondo problema qual era non era neanche un problema il secondo fatto era che in Inghilterra la gente sapeva benissimo che c'era una malattia simile al vaiolo presente negli animali era il vaiolo bovino il cowpox si chiamava ed era una malattia che poteva essere presa facilmente dai mungitori e dagli allevatori i quali mungendo le mucche col vaiolo si infettavano le mani e braccia ma questa malattia non ce ne va mai oltre quindi non andava mai oltre l'infezione localizzata a mani e braccia e chi aveva preso questa malattia non si sarebbe mai infettato col vaiolo ma non avrebbe mai avuto il vaiolo umano quello grave quello mortale era una cosa talmente risaputa che intorno al 1650 la fidanzatina del re locale di allora ha scritto una bella lettera dicendo caro amore amore mio io adesso vado a infettarmi in campagna perché ho saputo che in quel villaggio lì ci sono degli animali con il vaiolo vado lì me lo prendo così poi non lo avrò mai più e questa era già una cosa nota quindi genere ha fatto un due più due ha fatto due per due cioè ha preso il pus chiamiamolo pus e il liquido presente nelle pustole di una mungitrice e ha iniettato il figlio ovviamente non il suo il figlio del fattore il quale è james pipp sarebbe diventato il nuovo più vaccinato del mondo perché genere solo portava spasso quando faceva tutte le impostazioni vaccinava continuamente james pippo che sarebbe poi morto 80 anni a 76 anni di altre cose però di fatto questo è stato il primo esempio di vaccinazione con un metodo che prevedeva l'utilizzo del materiale virale virologicamente parlando stiamo parlando di un virus animale trasportato da un braccio e iniettato in un altro braccio e questo metodo arm to arm sarebbe quello stato utilizzato per un sacco di tempo fino a quando è arrivato qualcun altro in italia che succede in italia succede questo luigi sacco in cui è stato l'ospedale di milano ovviamente il primo a iniettare a utilizzare la tecnica di genere e si è vaccinato prima lui poi cinque bambini con il pus raccolto da due vacche affette dal vaiolo bovino dopodiché siccome era una persona seria si è anche iniettato dal vaiolo umano e non si è malato quindi ha dimostrato in maniera scientificamente ineccepibile che questo vaccino questo prodotto vaccinale funzionava ed era piuttosto utile dopodiché la vaccinazione diventa obbligatoria a partire dal 1888 ma prima aveva vaccinato centinaia di migliaia di persone erano state vaccinate in italia un'altra cosa importante è che il cioè lui ha usato le vacche affette da cowpox ma non ha pensato a moltiplicare queste vacche affette che sono state poi diciamo studiate e utilizzate qualche anno dopo ovviamente c'erano già i novax novax a philadelphia a pittsburg avevano già messo fuori una serie di informazioni per cui se tutti vaccinavi uscivano dei pezzi di mucca dalla bocca dalle braccia e quant'altro questo è il primo esempio di antivaccinisti della storia 1808 il vaiolo è stato poi debellato e sappiamo tutti che gli ultimi casi sono nel 1977 e dal 79 80 in poi non si vaccina più perché l'utilizzo di un vaccino bovino o che comunque contiene un virus è più pericoloso che non vaccinare dal momento che il vaiolo è stato eradicato per ora dalla specie umana e questo è infatti la data ufficiale di eradicazione che è il 1979 da lì in poi non ci sono più casi e quando parliamo di vaccinazione parliamo di una cosa probabilmente sbagliata perché questo è un vaccino provato in una azienda farmaceutica americana che contiene il vaccino bovino c'è il vaccino usato per vaccinare contro il vaiolo nel 1902 ma qual è il problema che in quel vaccino lì non c'è esattamente il virus del vaiolo ma c'è un'altra cosa o meglio non c'è il virus del vaiolo bovino c'è un altro virus che è quello del vaiolo equino tanto è vero che gli animali i cavalli hanno una regione simile una lesione simile a quella delle mucche e trasmettono il vaiolo alle mucche tanto è vero che il genere da qualche parte aveva anche scritto che sì ma lei usiamo le mucche però sappiamo tutti che ci deve essere il cavallo che funziona per avere le mucche con il vaiolo di conseguenza il virus che è stato utilizzato era sostanzialmente il virus del vaiolo equino portato nelle mucche e le mucche poi all'uomo per questo dicevo e come dire parlare di vaccinazione è sbagliato perché non è un vaccino non derivare le vacche in termine vaccinazione venne usato da poster per onorare genere in un torno al 1850 e ha chiamato vaccino questa cosa perché veniva dalle vacche se l'avesse saputo avrebbe chiamato in modo diverso per cui oggi saremo qui a parlare di equinazione cavallizzazione che ne so pure puledrazione o qualcosa del genere il termine vacca forse non avremmo usato ovviamente una battuta però di fatto questo è l'origine questo è stato dimostrato anche la funzione molecolare con uno studio di sequenza che nella provetta di prima ha fatto vedere la sila la presenza del vaiolo del virus del vaiolo equino dentro al al alla provetta utilizzata per vaccinare le persone nel 1902 ma come è avvenuta la trasforma il diciamo la vaccinazione delle persone allora intorno al 1800 è iniziato un metodo di vaccinazione braccio a braccio che era quello che vi raccontavo prima il braccio nel repusto le diciamo la vesciche della mungitrice di mucca di mucca mungitrice è passato al bambino per vaccinarlo e qui usiamo la parola vaccinazione dopodiché il problema qual era portare questa pratica in tutto il mondo e come se come si faceva a farlo un metodo braccio a braccio arm to arm cioè dovevi trovare qualcuno vaccinato con le pustole metterlo su una nave una virgenza a cavallo dovevi fare e portarlo a portarlo in giro ma fare in modo tale che durante il viaggio e siccome poi la gente anche guariva e bisognava che qualcun altro venisse infettato chiamiamolo diciamo vaccinato di conseguenza c'erano i chiamavano carovane o quello chiamatele come vi pare di persone disponibili a farsi vaccinare e a portare piano piano le pustole da una parte all'altra di conseguenza partiva un che ne sono un pullman con venti persone e uno era vaccinato quando questo aveva sviluppava nel braccio la pustola diciamo contenente il siero questo veniva passato un'altra persona e così via fino a quando arrivava l'estimazione questo metodo portò il vaccino da londra in primo luogo alle colonie inglese quindi malta giubilterra poi un po in tutta europa e dall'europa poi tornò indietro a un certo punto venne mancare il il primo moris c'è a londra è finito non ce n'era più di persone infette di persone vaccinate voglio dire per cui dall'italia è tornato a londra il forno 1901 poi da lì è andato a mosca da londra è andato verso l'amsterdam in italia arriva a napoli e questa è stata una botta di fortuna la botta di fortuna perché perché a napoli qualcuno ha pensato una cosa che vi racconterò subito dalla spagna poi il vaccino venne portato sempre braccio a braccio fino a cuba da cuba in Venezuela poi in messico in Brasile eccetera tutto quanto con il metodo braccio a braccio e infatti il viene ricordato il medico francesco sa viene Balmiss che ha portato in america una nave con ventidue orfanelli vaccinati due alla volta quindi vuol dire che avevano fatto i conti di quando ci mette una nave arrivare fin là e di quanta gente che serviva per portare il vaccino ovvero andare braccio a braccio una parte all'altra e queste sono tutte quante diciamo le avventure del vaccino per il vaiolo fino ad arrivare al Brasile in cui in Brasile hanno preso degli schiavi e poi non sappiamo bene che fine abbiano fatto però di fatto questo è quanto fate conto che il sistema funzionava bene perché il vaccino è arrivato in Australia nel 1904 quindi in pochi anni ci ha messo tre o quattro anni per fare questo giro qui voi immaginate la complessità di questa operazione dal punto di vista se non altro logistico prima citavo Napoli a Napoli che successe a Napoli c'erano c'era Cotugno e un suo allievo Giovanni Galbiati il quale ha risolto il piccolo problema di come avere dose di vaccino dal momento che la vaccinazione braccio a braccio richiedeva l'essere umano e che in mancanza di epidemie tu non avevi più materiale diciamo e allora il Galbiati cosa ha fatto ha trovato il modo di infettare i vitelli e di fare in modo che i vitelli infetti tenessero l'infezione per un buon periodo e quindi potessero essere allevati e quindi ha messo in piedi un primo allevamento di vitelli infetti da cui usare da cui da primer per utilizzare il vaccino e questo è il metodo che è andato avanti un bel pezzo fino alla fine delle vaccinazioni quindi parliamo nel 1979 la logica era questa avere degli animali su cui coltivare il virus di fatto da utilizzare poi nell'uomo quindi siamo andati avanti cento e sessant'anni o giù di lì utilizzando questo metodo che però funzionava perfettamente ed era primo dei rischi perché nella vaccinazione braccio a braccio uomo su uomo c'era ovviamente pericolo di attaccare malattie di altro genere non soltanto di infettarli con il vaiolo e qua c'è poi una lunga storia di epidemie di vaiolo nelle razze bovine suine ovine o quant'altro perché il virus attacca abbastanza bene tra specie diverse che hanno fatto in modo che ci fossero poi diversi ceppi di vaccino in diverse parti del mondo semplicemente perché c'erano animali diversi usati in modo diverso ma la logica era poi sempre quella e questo è quello come dire quello che dicevo prima caballiamoci piamoci vitelliamoci o meglio dire vacciniamoci ormai rimane questa cosa accade quando poi si fanno i vaccini e questa è la parte un pochino più attuale di questa mia di questa mia chiacchiera no allora intanto quando si producono anticorpi gli anticorpi sono proteine fatte con la due carne leggera due pesanti hanno una certa struttura sono configurati in un certo modo stiamo parlando di proteine quindi proteine con tanti aminoacidi che devono disporsi in un certo modo per poter legare il loro antigene e ogni brava proteina così come ogni recettore ha una sua struttura tridimensionale dentro alla quale ci va a finire quello che ci deve andare nel caso di un anticorpo l'antigene nel caso di un recettore come ac2 il lo spike del virus quindi questo è un legame come dire è un un rapporto tra due proteine che si basa su conformazione cariche elettriche ponti idrogeno e facetti di questo genere è un fatto puramente fisico chimico quello che accade è che noi producendo anticorpi quando facciamo anticorpi creiamo delle nuove molecole una delle quali funziona bene per legare un certo antigene per cui in quella che è la nostra eredità in quello che è il nostro patrimonio genetico noi abbiamo le istruzioni per creare in maniera assolutamente casuale una quantità enorme di possibili molecole non viene utilizzata tutta per l'amore del cielo però i meccanismi di riaggangiamento e di riassortimento del genoma nella parte che riguarda le immunoglobuline fanno sì che noi possiamo produrre un numero teorico enorme di molecole diverse diverse anche in un aminoacido però se voi fate i conti abbiamo 20 aminoacidi quindi se noi mutiamo una posizione sono 20 possibilità di avere una molecola diversa se ne mutate due sono 400 possibilità ne mutate tre sono 8000 possibilità e così via a tutto questo aggiungete un'altra serie di di fenomeni che avvengono duran e la ricombinazione del dna e arriviamo ad avere un numero che si aggira intorno ai 10 alla 14 molecole diverse quindi il nostro sistema immunitario è in grado di fare questo numero di molecole diverse durante tutta la vita se una persona a 100 anni abbiamo 31.000 molecole diverse al secondo questo è il calcolo che abbiamo fatto naturalmente non viene utilizzato però questo mi dice un pochino qual è la potenza di fuoco del sistema immunitario e quanto possiamo mettere in campo quando arriva un patogeno di qualunque genere e lo scopo qual è e ovviamente quello di avere l'immunità di di greggie in modo tale che le persone che hanno problemi a una risposta immunitaria per vari motivi non si debbano preoccupare se c'è un patogeno in giro perché sono protette dal fatto che il patogeno non viene trasmesso da altre persone e questo è un pochino quello che speriamo di raggiungere in qualche modo con questa pandemia che ripeto è ancora in corso ma come funzionano i vaccini e quali sono le strategie per creare il vaccino abbiamo sappiamo che ci sono tanti tipi di vaccini che vanno da un virus nativo quello più brutale magari lo prendiamo dalle mucche e facciamo un bacino per il vaiolo a un bacino replicante per esempio virus vivo attenuato la poliomielite che non è capace di infettare il sistema nervoso ma si replica molto bene nell'intestino a patogeni non replicanti uccisi a subunità hanno indigeni purificati fino ad arrivare ai nostri dna e nna che sono utilizzati per il vaccino SARS-CoV-2 ma come funziona io ho fatto un piccolo disegnino che fa vedere un vaccino a rna messaggero contenuto in una particella lipidica questo vaccino viene iniettato nel muscolo dove incontra una serie di elementi tra cui le cellule vendrittiche che prendono la particella lipidica la portano dentro alla cellula liberano il messaggero che fa diventare diciamo che il legno trasforma in proteina quindi lo legge e lo fa diventare proteina la proteina viene poi rilasciata viene poi rilasciata e acchiappata dai vinto ctb che sono le cellule che devono fare anticorpi in realtà il processo è un po più complicato perché le cellule che fanno questo lavoro che producono le proteine della spike o un pezzettino di spike virale devono anche far vedere la stessa cosa la stessa proteina un pezzettino ai linfociti t i quali i linfociti t devono aiutare con le loro citochine il linfocito b a diventare una cellula che produce anticorpi oppure una cellula di memoria quindi questo è un po il passaggio quindi non è una cosa proprio semplicissima da come dire da capire perché la stessa cellula dendritica deve produrre proteine e far vedere proteine pezzi diverse della stessa proteina la prima è rilasciata in circolo e mi ripresa il linfociti b la seconda è presentata dalla stessa cellula ai linfociti t che però possono anche vederla sui linfociti b quindi in realtà la presentazione può essere vuoi da parte di questa cellula vuoi da parte del linfociti b il risultato finale è il linfocito t produce citochine e il linfocito b diventa una plasmacellula che fanno i corpi o una cellula b di memoria questo è il giochino che accade con l'RNA messaggero quindi il dna non cambia molto l'unica differenza è che il dna diventa rare nel nucleo dove poi diventa rna e mi allervano il cicoplasma e fa esattamente la stessa cosa o fa produrre proteine che sono poi presentate al come esattamente come prima quindi sostanzialmente il eh lo schema dei vaccini nuovi a e che ne ha o dna è questo e nel caso del coronavirus che deriva da pipistrelli pandonini o dio solo sa dove eh noi dobbiamo produrre vaccini per impedire alla cellula eh a una cellula di essere infettata dal eh dal virus spesso. Il vaccino si deve mettere gli anticorpi si deve mettere in mezzo tra il recettore AC2 e la spike. Questo è un pochino il ragionamento. I meccanismi patogenetici del SARS-CoV-2 vanno un pochino al di fuori di questa mia presentazione però sappiamo che ci sono molti metodi che il virus utilizza per danneggiare l'organismo e quello che dobbiamo fare è bloccarli in tutti i modi. Con gli anticorpi la vaccinazione blocchiamo la prima infezione poi abbiamo tutto il resto. Abbiamo tutto il danno vascolare, il danno endoteliale, la coagulazione, le citochine, il cytokine storm e quant'altro che deve essere in qualche modo bloccato per impedire il proseguo dell'infezione. Infezione che coinvolge una enorme quantità di cellule del sistema immunitario perché dai linfociti, il CD4, il CD8, i neotrofili, i mamociti eccetera tutte queste cellule sono coinvolte nella risorsa immunitaria. al SARS-CoV-2 che è un qualcosa di veramente molto ma molto potente. e noi abbiamo fatto diversi studi su questo argomento. L'ultimo lavoro è uscito qualche settimana fa. Abbiamo partecipato a un megastudio multicentrico, un megagalattico, un migliaio di persone. Insomma i risultati sono quelli che stiamo cercando di vedere quali siano le base genetiche della risposta al virus. Abbiamo studiato i primi casi delle persone malate quando erano l'assetto genetico. Poi adesso c'è un lavoro uscito sulla on genome sequencing per capire tutto il genoma con in mezzo un sacco di altre di altre analisi. Queste sono le prime. Io ci tengo molto a dire che il nostro gruppo è stato forse il primo in Europa a pubblicare un lavoro sulla immunologia del covid. Il 18 marzo è uscito paper. Quindi tre settimane dopo aver avuto il primo paziente. A Modena eravamo già pronti all'azione. E abbiamo fatto vedere come si utilizzano i campioni in un secondo lavoro. Quello che abbiamo fatto è stato mostrare come si maneggiano le cellule infette, o meglio il sangue per domenere dai pazienti. E abbiamo fatto vedere che sostanzialmente non succede niente. C'erano contatti come forse con qualunque sangue umano. Quindi è la stessa regola e valgono per tutte e abbiamo potuto far vedere la produzione di citochine, la risposta a CD4, CD8 e quant'altro. Tutto questo è terminato, poi è finito in un primo webinar che ho tenuto per Science in aprile, in aprile, uno dei primi, con un sacco di gente. E poi sono cominciati gli studi clinici. Questo è il lavoro di Cristina che ha fatto vedere come l'utilizzo del tocilizumab, una molecola che blocca le settore per gli L6, riduca in maniera veramente molto significativa, il numero di ricoveri e la mortalità, la ventilazione assistita e la mortalità nei pazienti quando sono trattati in un certo momento della loro storia clinica. Abbiamo poi visto un'ultima cosa, la senescenza immunitaria, l'attivazione, la marcata senescenza dei linfociti CD4 durante la fase acuta dell'infezione. Abbiamo visto che i linfociti B si espandono in malo modo, in maniera eccessiva. Abbiamo visto che ci sono nei linfociti CD8 che riconoscono antigeni immunodominanti. Ciò vuol dire che dentro al virus, non nella spike, ma nelle proteine interne del virus, ci sono pozioni che possono essere riconosciute nei linfociti citotossici e attivare una risposta immunitaria ulteriore. E questo sarebbe il caso di pensarci per sviluppare vaccini che coprano più varianti e che vedano più ragioni del virus. Abbiamo poi studiato, se riuscissero a andare avanti, altri parametri legati alla risposta antivirale, scusa, eccolo qui, e abbiamo dato un webinar per me, un anno fa, raccontando tutta la storia di questa cellula e per poi arrivare a studiare mitocondri, un mio vecchio amore, e vedere come i mitocondri dei pazienti con COVID-19 sono profondamente alterati rispetto ai mitocondri presenti nei monociti dei controlli. Da lì siamo poi andati a vedere il controllo dell'infiammazione. Controllare l'infiammazione è una cosa fondamentale per bloccare una malattia come il COVID-19 e abbiamo visto che per esempio le donne, le donne incinte che hanno un trend immunitario particolare, sono capaci di contenere l'aspetto infiammatorio dell'infezione, la SARS-CoV-2, le prime fasi della stessa. Tutto questo per arrivare dove? Arrivare a capire come funziona la risposta immunitaria quando viene utilizzata la vaccinazione. E la vaccinazione è un fenomeno che, come vi raccontavo, è nato ai tempi di genere. Il primo vaccinato, 1796. Poi da lì in poi c'è stata tutta una lunga serie di vaccini sviluppati con mille modi diversi e negli ultimi anni abbiamo visto una piattaforma assolutamente nuova, assolutamente nuova fino a un certo punto perché in realtà i vaccini a DNA e a RNA sono stati utilizzati da molto tempo, relativamente a molto tempo. Io ricordo che andai al primo congresso sulla vaccinazione a DNA a Washington nel 95, quindi stiamo parlando di 27 anni fa e il fatto di avere delle tecnologie così importanti, così forti, ci ha permesso di sviluppare vaccini in tempi rapidissimi. Voi sapete che il virus è stato sequenziato e pubblicato il 10 gennaio 2020, il 28 febbraio c'era già il primo prototipo di vaccino di BioNTech e qualche giorno dopo, quindi a prima moderna. Quindi in sei settimane è stato creato un vaccino apposta per un virus. E il numero di vaccini prodotti e oggi in uso è enorme. Qui ci sono alcuni dati riportati sulla quantità di vaccini in sviluppo clinico e in fase preclinica sono centinaia di vaccini. Oggi per esempio a novembre ce ne erano 132 in sviluppo clinico e 194 in fase preclinica. Quindi c'è un'enorme accelerazione. Questo vado già a spiegare un po'. Ma i vaccini basati sull'RNA messaggero da dove nascono? Sostanzialmente da qui. Nascono dal fatto che un PhD student tanti anni fa ha fatto vedere che se cacci dentro l'RNA messaggero a una cellula questa fa la proteina. Non era. Oggi noi diciamo vabbè cosa succeda. Però allora, credo fosse l'89 o giù di lì, far vedere che tu dall'esterno potevi inserire e che abbiamo messo a giro e far produrre qualcosa era veramente qualcosa di importante. E i primi trasferimenti sono cominciati in questo periodo utilizzando le tecniche di allora che oggi ovviamente ci fanno sorridere. La tecnologia di oggi è infinitamente più potente di quella che avevamo vent'anni fa, così come tra vent'anni io spero che la tecnologia è più potente di quella che abbiamo oggi, voglio dire è normale. Però quello che è stato fatto intorno a metà degli anni 90 è stato vedere che se io faccio questo gioco di trasferire l'RNA in una cellula di qualche animale e l'RNA codifica per una proteina umana, l'animale poi produce anticorpi contro la proteina umana. Per cui nel 95 è stato visto che l'RNA messaggero poteva essere usato come strumento di vaccinazione. E non è mica poco. Oggi siamo nel 2022 e sono passati 27 anni, durante i quali è stato studiato pressoché tutto di questa strategia e siamo arrivati al 2009 in cui è stato usato per la prima volta l'RNA messaggero per trattare un paziente, come dire, per proporre il trattamento per il cancro. E dal 2009 pian piano siamo andati avanti fino ad arrivare a un punto storico quando nel 2016-17 è stata inventata la tecnologia del CRISPR-Cas9 che è una tecnologia che permette di fare tagliacusi del DNA in tempi rapidissimi. Cioè è cambiato il mondo. Ed è cambiato il mondo anche per un altro motivo. Perché chi studiava la vaccinazione nei pazienti con tumore aveva pensato una cosa di questo genere. Io voglio vaccinare un patente che ha un tumore. Cosa devo usare come vaccino? Ovviamente una proteina del tumore. Ma come faccio a prendere questa proteina qua? Prendo un tumore, tiro via le cellule, estrago le cellule e sequenzio l'RNA messaggero delle cellule per capire quale proteina sarebbe saltata fuori. La tecnologia ha permesso in quegli anni lì di fare una cosa molto furba. Cioè usare l'RNA sequencing a livello di singola cellula per vedere dentro al tumore quali proteine erano presenti e mutate e usare quelle proteine per vaccinare il paziente. E questo andava fatto in fretta perché i pazienti hanno tumori che mutano. Perchè se io prendo un tumore da un paziente, insolo l'RNA, capisco com'è la proteina che il tumore produce e poi gli faccio un vaccino contro, ma ci metto sei mesi, nel frattempo la proteina è mutata e non serve più a niente. Quindi devo fare questo lavoro qui in qualche settimana. E questo è stato reso possibile dalle tecnologie. Primo, dell'RNA sequencing ad alta definizione e ad alta velocità e a livello di singola cellula, secondo dalla possibilità di fare tagli e cuci del DNA in tempi rapidissimi con la tecnologia del CRISPR-Cas9. Unendo queste due tecnologie è stata fuori che poi in quattro o cinque settimane riesci a creare un vaccino a RNA a partire da una cellula che contiene l'RNA messaggero, cioè la sequenza dell'RNA. Quindi questo ha permesso una cosa spettacolare, cioè di avere in poche settimane il prodotto l'RNA messaggero da usare per la vaccinazione a partire da un virus che non conoscevi. Perché ripeto, il virus è sequenziato e pubblicato il 10 gennaio. In sei settimane è arrivato il vaccino. E questo è una cosa veramente spettacolare ed è una tecnologia che può essere utilizzata oggi per milioni di altri vaccini. Praticamente non c'è proteina che tu non possa fare, o meglio far fare, alle cellule umane utilizzando la tecnologia dell'RNA messaggero. Ed è quello che tutti noi ci aspettiamo avvenga in un tempo molto rapido. Qui è un pochino quello che vi ho raccontato, semplicemente il tipo di tecnologia utilizzata per arrivare a questo, a questo. Ma vedete che qua dal 17 al 19 è cambiato il mondo. Questa è una cosa tecnica un pochino, ma vi fa vedere come con dei metodi di tagliacuce ci abbiamo migliorato moltissimo. L'altra domanda importante che una persona è super poca è, ma ok, fatto il vaccino, è un vaccino che è stato controllato dal punto di vista della sicurezza, della qualità, eccetera? È certamente sì. Perché non è mancato nulla come controlli di qualità, è cambiato il tempo. Perché quello che una volta la gente ci mette in EMA e comunque tutti i vari, come dire, enti regolatori che Stefano conosce mille volte meglio di me in tempo, che ci mettevano a controllare tutto, oggi, o meglio, qualche tempo, l'anno scorso è cambiato in maniera totale. La velocità è infinitamente più alta, ma non è cambiata la qualità dei controlli. E qua vedete un pochino quello che è la produzione dei vaccini da quando tu trovi l'antigene a quando arrivi alla fine, passano molti anni, oggi sono passate, ripeto, 28 giorni, con tutti i problemi legati. Ultime diapositive, la domanda è se funziona veramente questo vaccino. Beh, questa era una diapositiva vecchia di qualche anno, di un anno e mezzo fa, certamente sì, abbiamo tutti i lavori nel mondo che fanno vedere come ci sia un'efficacia alla sicurezza, o comunque come i vaccini abbiano clamorosamente cambiato il corso di questa pandemia, pur con qualche dubbio, questo è lo Sputnik, questa è una lettera che abbiamo scritto da un gruppo di persone guidate da Enrico Bucci, che ha posto qualche dubbio sui dati pubblicati su Lancet dallo Sputnik, il primo lavoro dei russi, conteneva delle simpatiche immagini che sono state considerate un pochino photoshoppate e nel lavoro dello Sputnik ci sono tutti questi dubbi, perché, come dire, la probabilità di avere grafici uguali nello stesso paper con patenti diversi funzionerà appreso che nulla. Per cui, come dire, naturalmente abbiamo chiesto a Lancet i dati crudi e Lancet si è comportato come ai tempi di Wakefield, facendo un errore clamoroso perché non aveva nella banca dati i dati crudi dei russi, i files, i russi non li hanno rilasciati, hanno detto al nostro ricco che mi avrebbero dati soltanto dopo approvazione del loro comitato scientifico, quindi non abbiamo potuto verificare niente di quello che i russi hanno pubblicato. Stesso ragionamento, è un lavoro uscito qualche giorno fa sul Lancet sempre che riportava i dati dello Sputnik in Argentina, se andate a vedere il lavoro ci sono delle cose curiose, per esempio la popolazione era formata dall'87% di maschi e dall'81% di femmine. Uno fa un po' fatica a capire questa roba qua, nelle tabelle ci sono dati piuttosto sballati, tanto è vero che in questo momento la faccenda sta per essere indagata in modo un po' migliore. non ci sono solo gli anticorpi, ci sono anche le cellule, ci sono cellule di tutti i tipi, qui abbiamo i primi lavori che facevano vedere i linfociti T e i linfociti B, come si comportavano, poi ci sono lavori importanti sulla grosse attività degli anticorpi, che tutti noi abbiamo visto più e più volte, ed infine vediamo come il vaccino funziona, il nostro speaker approvò un po' di anticorpi pochini dopo la prima dose, un po' di più dopo la seconda e fortunatamente arriva anche nei bei linfociti B, e questo è uno studio che stiamo ora per inviare una rivista, abbiamo messo in piedi un metodo per vedere quali linfociti B producano anticorpi e che tipo di anticorpi producano. Quindi riusciamo a vedere la specificità, la variante riconosciuta dai linfociti B e il tipo di anticorpi prodotto, i GG, i GA, i GE, i GM, i GD, quindi abbiamo un quadro molto ampio della risposta immunitaria, e l'ultimo grafico fa vedere come la terza dose in realtà funzioni molto bene, questo sono sempre io, faccio, come dire, outing, questo sono i miei anticorpi dopo la prima, la seconda e la terza dose, ora vediamo cosa accadrà dopo la quarta. Funziona? Sì, funziona, giusto, perché per esempio questo è gennaio 22, questo è 4 marzo 22, questo sono io e come vedete c'è una banda che non mi è risultata essere molto simpatica, mi sono fatto AirCovid, variante BA2 intera, abbiamo serviziato tutto, di fatto sono stato poco bene un giorno o due, niente di che, e di fatto dopo qualche settimana ho perso il virus, sono rimasto bello come prima, si fa per dire, ma è solo per dire che, di nuovo, la storia che raccontiamo che gli anticorpi, anche tanti, anche belli, antibuoni, proteggono dalla malattia grave, ma non necessariamente dall'infezione, è assolutamente vera e abbiamo in questa immagine la prova provata. Detto ciò, mi ringrazio per la vostra attenzione e ringraziando però tutti i miei ragazzi, i miei collaboratori che dal 20 febbraio in poi del 2020 sono stati in laboratorio con me praticamente giorno e notte, fino anche adesso, quando abbiamo bisogno, i ragazzi e i ragazzi ci sono tutti. Di nuovo, grazie per la vostra attenzione.